Dopo molti anni e dopo un lungo iter burocratico iniziato nel 2016, arriva l'omologazione del campo sportivo Marchese del Prete di Venafro. Questa mattina la comunicazione ufficiale dell'ok definitivo da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale di Lettanti del Manto in Erba Artificiale. Potranno riprendere dunque le gare di calcio per i campionati dilettantistici in un impianto innovativo e di ultima generazione. Si parla di un impianto di ultima generazione, un impianto di erba sintetica con un intaso di particelle organiche 100% vegetale, ecocompatibile, ecologico, che hanno un vantaggio sia dal punto di vista ecologico ma avranno un vantaggio anche da qui a 10-15 anni che si dovrà rifare il campo per lo smaltimento dei rifiuti. Diciamo che questo è uno dei primi interventi che l'Ital Green, la società che ha fornito questo manto, ha realizzato in Italia. Quindi questo qua per noi è un vanto perché insomma rientriamo nei primi 4-5 campi in Italia, oggi penso saranno di più, ma nel momento che siamo partiti con i lavori sicuramente eravamo tra i primi. Una nuova vita per il campo sportivo marchese del prete di Venafro. Ripartire con un impianto all'avanguardia, secondo il sindaco Alfredo Ricci, consente di guardare con fiducia ad una fase di ripresa dello sport, in sinergia con le associazioni sportive locali. Credendo fortemente in questo intervento abbiamo lavorato per reperire le risorse, proprio perché è una struttura che già quando siamo partiti con questo intervento, ma ancora più oggi è necessaria perché sport significa socialità, significa salute, significa benessere psicofisico, lo è sempre e lo è ancora di più in questo momento difficile. Veniamo da un anno in cui le attività sportive sappiamo quanto sono state limitate e quanto questo ha influito non solo sulle attività delle associazioni, ma soprattutto sulla quotidianità dei ragazzi, degli sportivi in genere agonisti, ma soprattutto amatoriali. Ripartire con questo impianto all'avanguardia, a norma finalmente, noi erano anni che andavamo avanti con delle deroghe quasi elemosinate alle federazioni sportive, ci consente di guardare con maggior fiducia anche a questa fase di ripresa.